Adesso ovviamente da Roma vogliamo a Bruxelles, è con noi l'onorevole Paolo Borchia, grazie Paolo. Grazie Filippo, grazie a te e a tutta l'amministrazione per l'invito graditissimo, per quello che è veramente un momento di comunità molto significativo. Però visto che abbiamo la possibilità di essere su un palco, di avere in mano un microfono, di avere qualche decina di persone che ci ascolta, magari cerchiamo anche questi momenti di comunità di far sì che diventino più significativi lanciando alcuni spunti di riflessione. Prima di tutto consentitemi di ringraziare tutte le persone, le associazioni, tutti i volontari che hanno lavorato per far sì che questa fiera potesse essere organizzata, immagino con un coefficiente di difficoltà un po' più alto rispetto agli ultimi anni. Quindi un saluto agli amici della protezione civile e un applauso giustamente. Grazie alle forze dell'ordine e a tutti i volontari. Penso che da questo palco siano arrivati dei messaggi e degli spunti molto interessanti e pertinenti. Un bel momento di comunità, parliamo e ragioniamo sull'artigianato, sull'agricoltura, sul commercio. Prima cosa, se ragioniamo sul tema agricoltura, penso che il prossimo governo dovrà fare una grossa riflessione sulla problematica dei redditi. Perché adesso abbiamo tantissimi ragazzi che magari vorrebbero iniziare un percorso in ambito agroalimentario, però non ci riescono perché i redditi sono talmente bassi che soltanto un matto oppure qualcuno che magari ha il papà, il nonno, il bisnonno che lavoravano nel settore decidono di intraprendere questo percorso. Per cui io personalmente ritengo che una delle priorità sulle quali il governo nuovo dovrà lavorare sarà questa. Poi il tema del commercio, il tema dell'artigianato, adesso è inutile nasconderlo, al rischio anche di essere banali, però chiaramente il tema delle bollette è quello che fa tremare i polsi ogni mese. Adesso la piccola buona notizia di novembre dovrebbe essere, se non ci sono cataclismi, che finalmente dopo tanti mesi di bollette in salita, almeno per quanto riguarda il gas, dovremmo avere prezzi che si stanno un attimino raffreddando, solo che stavo parlando prima con Roberto Marcato, chiaramente il fatto di pregare che il prossimo inverno non sia freddissimo, da un certo punto di vista è il funerale della programmazione, perché non si può arrivare ad un livello simile e sperare che faccia meno freddo. Comunque, al di là di questo, e chiudo accogliendo l'assist di Andrea Ostellari, il tema del consumare, il made in Italy, il made in Veneto, se possibile, diventa un tema fondamentale, perché poi se i nostri operatori iniziano a stare un attimo meglio, dopo anche a livello di indotto, è tutta l'economia che ne trae beneficio. Io faccio su e giù dal Veneto all'Europa abbastanza spesso, vi posso assicurare che un veicolo promozionale come quello del nostro aggravi mentale, non lo troviamo perché veramente all'estero siamo molto apprezzati, perché le cose le sappiamo fare e le sappiamo fare bene. Chiudiamo il cerchio con il tema dell'autonomia, perché è inutile saper fare bene le cose se dopo sui mercati, se dopo a livello di tassazione ci sono mille ostacoli ovunque, per cui adesso siamo in una fase politica nuova, una fase politica dalla quale chiaramente tutti ci aspettiamo tantissimo, ci aspettiamo che questo territorio possa finalmente coronare la propria aspirazione di governarsi in maniera maggiormente autonoma, anche perché purtroppo piazza o non piazza, ma viviamo in un mondo dove dobbiamo guardare le locomotive e non le tartarughe. Grazie a tutti, buona fiera. Grazie, onorevole Paolo Borchia.